L'incidente questa mattina lunedì 10 dicembre sull'ex statale 4,60 all'altezza di Salassa, un pensionato di Cornier alla guida della sua Fiat Panda non ha visto fermo a bordo strada un furgone cassonato della città metropolitana per il taglio dell'erba e li ha finito contro spostandolo. Il conducente del furgone in quel momento non si trovava a bordo. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese e i carabinieri di Castellamonte. Il pensionato è rimasto fortunatamente illeso, il sinistro è al vaglio dei carabinieri. Cosa? Se ci sono le braccine se c'è un'altra mia cosa. Perché? E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Grazie a tutti.